Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, siamo ancora GTA 5, missione online, il nome della missione è Carico Abito. Come sapete nell'aggiornamento vecchio della serie di missione online Carico Abito è cambiato un po' di cose fino adesso, infatti ora nell'aggiornamento versione 1.15 Carico Abito è stato aggiunto un paio di cose come ora vedete qua giù, ecco 3, 4, 4 SUV, ora li faremo fuori nella modità cecchino, ora fammi trovare un modo perfetto per prenderli tutti quanti. Guarda questo sei l'aggotto, geniale, geniale, comunque vai da fuori, 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 è uno. Partito è partito il billetto ragazzi, 3, qua sta bello rambuscato, così, le gambe, le gambe, prendiamo le gambe, eccolo, perfetto. Perfetto. Ok. Perfetto. Perfetto. Dai che le facciamo fuori tutte così ragazzi, tutte così le facciamo fuori. con la maniera che non si susurre. Perfetto. Ok, forse. E' duro eh! Mori. C'era un altro, lo stava. Ok, ma non! come al solito vado a cuocere si ci do si ci do ah ecco c'era ah adesso stanno abbuscato e noi pensiamo a questo e vai e vai qui ragazzi voglio fargli scoppier in aria vediamo se ce la facciamo proprio il barino scoppia oh bravo che ti sei nascosto lì dietro ok che miseria che botto ok gli ultimi oh questo è duro oh questo è duro è è posto ahi ok a posto allora pensiamo a quest'altro eccolo vedi con calma risolviamo tutto andiamo 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 che abbiamo quasi fatto dai speriamo che non mi ammazzano c'è qualcuno c'è qualcuno che mi sta stasciando quant'è sostroso guarda 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 ancora mi colpisce oh fuori dai 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 mamma mia sei sedento oh ce l'è uno qui ne ha buscato da qualche parte chi è che parla chi è che parla ah sei tu che parla oh dai non parli più ok ma ma ragazzi muove io perché qui me la sono presa con calma però ragazzi se volete fare il record su sulla velocità di completamento della missione carico ambito vi divertite alla grande proprio alla grande vi divertite ero su destra dei cazzi non stavano apposcate dobbio che sto lanciare sto lanciare ehi tu con l'elicottero scendi scendi che ti devo uccidere dai dai ehi quando sei lento oh dai vieni ehi il letto pronto ah andiamoci via via non ti spegnere le eliche non ti spegnere via dai dai che mi sa che tra un bordo ci arriva l'elicottero nel buco del culo oh ma questo da dove cazzo è sbucato fuori non avevo ucciso tutti così così dall'arco sbubbolo dai ah comunque ragazzi per tirare nel cancio di traino è con la è solo con le freccette perché selezionare la freccetta verso sinistra che mi tira giù il cancio dopo dopo credo che la stessa cosa sia per tirare l'uso dai speriamoci che questo elicottero andrà in intensa mamma mia sull'elicottero mi voglio poi ci davanti dai dai no pare che l'elicottero andrà viva non no non 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 dai mamma mia mamma mia stanno stanno stivellando di colpi ragazzi ce la faremo arrivare a destinazione qui ci esploderà l'elicottero non mamma mia papà io vorrei andare addosso ma tu vorrei che scoppio trafizzo stai nella liga via via lasciami stare come sparano dai 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 andiamo alla prossima dai alla prossima riuscirai a uccidere e lasciamo questo maledetto carico ciao bene ragazzi ecco l'episodio di città 5 carico avvito se avete piaciuto lasciate un like commentate e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao